al professore quando insistiva gliel'avevo detto e ripetuto bavi professore sono ragazze semplici roba di campagna bavi è quello che fa meglio per lei prendere una romana le ciocciare sono rustiche contadine analfabete quest'ultima parola soprattutto era piaciuta al professore analfabeta ecco quello che ci vuole almeno non leggerà i fumetti analfabeta questo professore era un uomo vecchio col pizzo i baffi bianchi che insegnava al liceo ma la sua occupazione principale erano le rovine ogni domenica e anche in altri giorni lui andava qua e là sulla via appia o al foro romano o alle terme di caracalla e spiegava le rovine di roma in casa sua poi libri sulle rovine e altri si accatastavano come in una libreria cominciavano all'ingresso dove ce n'erano una quantità nascoste dietro certe tende verdi e continuavano per tutta la casa corridoi stanze ripostigli soltanto nel bagno e in cucina non ce n'erano libri che lui se li teneva come la rosa al naso e guai a chi glieli toccava libri che pareva impossibile che potesse averli letti tutti eppure come diciamo noi in ciociaria non si attreppava mai e quando non insegnava o dava lezioni in casa o spiegava le rovine se ne andava ai mercatini di libri usati a frugare per i carrettini e poi rincasava sempre con un pacco di libri sotto il braccio faceva collezione insomma come i ragazzini fanno collezione di franco bolli perché poi si fosse impignato a volere per cameriera una ragazza del mio paese per me era un mistero diceva che erano più oneste e non avevano grilli per la testa diceva che a lui le contadine gli mettevano allegria con quelle belle guance di mele rosse diceva che cucinavano bene insomma siccome non passava giorno che non si affacciasse in portineria sempre insistendo con la ragazza ciociara e analfabeta scrissi al paese al comparezto e lui mi rispose che ci aveva appunto quello che ci voleva una ragazza delle parti di valle corsa che si chiamava tuda che non aveva compiuto ancora vent'anni tuda arrivò una sera a roma insieme con il comparezto e io andai a prenderla alla stazione al primo sguardo capì che era di buona razza ciociara proprio di quelle che sono capaci di zappare per una giornata filata senza rifiatare oppure di portare sulla testa per i sentieri di montagna un cesto del peso di mezzo quintale ci aveva le guance rosse che piacevano al professore la treccia arrotolata intorno alla testa le sopracciglia nere unite che le sbarravano la fronte il viso tondo e quando rideva mostrava i dentini bianchi stretti stretti che le donne in cioceria si puliscono strofinandoci una foglia di malva portava sotto il braccio un panierino e mi disse che era per me una dozzina di uova di giornata nella paglia ricoperte di foglie di fico e le dissi che era meglio che le desse al professore per fare buona impressione ma lei rispose che non aveva pensato al professore perché trattandosi di un signore ci doveva di certo avere il pollaio in casa mi mise a ridere e così da una domanda all'altra mentre in tram andavamo verso casa capì che era proprio una selvaggia non aveva mai visto un treno un tram una casa di sei piani insomma analfabeta come voleva il professore arrivamo a casa e io prima la portai in portineria per presentare la mia moglie e poi su con l'ascensore all'appartamento del professore venne lui ad aprire perché non aveva servitù ed era mia moglie che di solito gli faceva le pulizie e quel po di cucina studa come entrammo gli mise il panierino in mano dicendo chi è professore prendi t'ho portato l'ova fresche io le dissi non si dà del tuo al professore ma il professore invece le incoraggiò dicendo dammi pure del tuo figliola e mi spiegò che quel tu lì era il tuo romano degli antichi romani che anche loro come i ciociari non conoscevano in lei e trattavano la gente alla buona come se fosse stata tutta una famiglia il professore poi portò tutta nella cucina che era grande con il fornello a gas le pentole di alluminio insomma tutto il necessario e le spiegò come funzionava tutta ascoltò ogni cosa zitta e seria finalmente con quella sua voce sonora disse ma io non so cucinare il professore sorpreso disse ma come mi avevano detto che sapevi cucinare lei disse al paese lavoravo sappavo cucinavamo sì ma tanto per mangiare una cucina come questa non ce l'ho mai avuta e dove cucinare nella capanna fece il professore tirandosi il pizzo anche noi qui cuciniamo tanto per mangiare mettiamo che tu debba cucinare un pranzo tanto per mangiare che faresti lei sorrise disse ti farei la pasta coi fagioli poi ti bevi un bicchiere di vino e poi magari qualche noce qualche fico secco tutto qui niente secondo come secondo dico niente secondo piatto pesce carne questa volta le si mise a ridere di gusto ma quando ti sei mangiato un piatto di pasta e fagioli col pane non ti basta che vuoi di più io con un piatto di pasta e fagioli e il pane ci zappavo tutto il giorno tu mica lavori studio scrivo lavoro anch'io beh studierai ma il lavoro vero lo facciamo noi insomma non voleva convincersi che ci voleva come diceva il professore un secondo finalmente dopo molte discussioni fu deciso che mia moglie per qualche tempo sarebbe venuta in cucina per insegnare a tuda passiamo quindi nella camera da letto della cameriera che era una bella camera che dava sul cortile con un letto un comò e un armadio lei disse subito guardandosi intorno dormirò sola e con chi vuoi dormire al paese dormiamo in cinque nella stanza è tutta per te alla fine me ne andai dopo averle raccomandato di stare attenta e di lavorare bene perché ero responsabile così davanti al professore come al comparetto che me l'aveva mandata uscendo udì il professore che le spiegava guarda che tutti questi libri devi spolverarmeli ogni giorno con il piumino e lo straccio lei allora domandò che te ne fai di tutti quei libri a che ti servono e lui rispose per me sono come la zappa per te al paese ci lavoro e lei sì ma io di zappa ne ho una sola dopo quel giorno il professore ogni tanto passando in portineria mi dava notizie di tuda non era più tanto contento il professore per dire la verità un giorno mi disse è rustica proprio rustica lo sa che ha fatto ieri ha preso un foglio scritto sul mio tavolo il tema di un alunno e se ne è servita per atturarci i fiaschi del vino dissi professore io l'avevo avvertito roba di campagna sì però concluse lui è una cara figliola buona servizievole proprio una cara figliola la cara figliola come la chiamava lui ci mise poco tempo a diventare una ragazza come tutte le altre cominciò appena ebbe lo stipendio col farsi il vestitino a due pezzi che sembrava proprio una signorina poi si comprò le scarpette con il tacco alto poi la borsetta di finto cocodrillo si fece anche tagliare la treccia un vero peccato la prima volta che la vidi con quel disgraziato di mario l'autista della signora del terzo piano le dissi guarda che quello non fa per te le cose che dice a te le dice a tutte lei rispose ieri mi ha portato in macchina a monte mario beh e allora è bello andare in macchina e poi guarda cosa mi ha dato e mi mostrò una spilla di metallo bianco con un elefantino di quelle che vendono i mercai a campo dei fiori io le dissi se è un ignorante non capisci che quello ti porta per il naso intanto non dovrebbe andare in macchina per conto suo con te se la signora lo viene a sapere sente lui e poi sta attenta te lo dico ancora una volta sta attenta ma lei sorrise e poi continuò a uscire con mario passarono un paio di settimane il professore un giorno si affacciò in portineria mi chiamò da parte mi domandò abbassando la voce senta un po' giovanni quella ragazza è onesta dissi questo sì professore ignorante ma onesta sarà fece lui poco persuaso ma mi sono scontarsi cinque libri di valore non vorrei protestai ancora una volta che non poteva essere stata tuda e che lui i libri li avrebbe ritrovati di certo ma rimasi impensierito lo confesso e decisi di tenere gli occhi bene aperti una sera qualche giorno dopo vedo tuda entrare nell'ascensore insieme con mario lui disse che doveva andare al terzo piano per prendere ordini dalla signora che era una bugia perché la signora era uscita da più di un'ora e lui lo sapeva li lasciai andare su e poi presi l'ascensore salì e andai dritto all'appartamento del professore per una combinazione avevano lasciato la porta socchiusa entrai passai per il corridoio senti che loro due parlavano nello studio e capì che non mi ero sbagliato pian piano mi affacciai alla porta e cosa vedi mario salito in piedi su una seggiola che spenzolava contro la libreria tendendo la mano verso una fila di libri che stava sotto il soffitto e lei la santarella dalle guance rosse che gli reggeva la seggiola e diceva quello lassù quello bello grosso quello bello grosso rilegato in pelle dissi allora uscendo fuori ma brava ma bravi vi ho presi bravi il professore che me l'aveva detto e io che non ci credevo bravissimi avete mai visto un gatto se gli tirate una secchiata d'acqua dalla finestra così lui a sentire la mia voce salto giù e scappo via lasciandomi solo contuda io allora gliene dissi tante tante che un'altra perlomeno sarebbe scoppiata in pianto ma sì con le ciocciare è un'altra cosa mi ascoltò a testa bassa senza parlare poi levo gli occhi asciutti e disse e chi gli ha rubato i soldi che mi avanzano dalla spesa glieli riporto sempre tutti quanti mica faccio come certe cuoche che fanno pagare ogni cosa il doppio disgraziata e tu non rubi libri e questo non si chiama rubare ma ne ha tanti lui di libri tanti o pochi tu non devi toccarli e sta attenta che se ti ripiglio te ne torni al paese dritta come un fuso lì per lì testona non volle darmi ragione né ammettere neppure un momento solo di aver rubato ma qualche giorno dopo eccola che entra in portineria con un pacco sotto il braccio eccoli i libri del professore moglie li riporto e così non potrà più lagnarsi le dissi che aveva fatto bene e pensai dentro di me che dopo tutto era una buona ragazza e che la colpa era tutta di mario l'accompagnai in ascensore e poi entrai con lei in casa per aiutarla a rimettere a posto i libri proprio in quel momento mentre stavamo a prendere il pacco ecco arriva il professore dissi professore ecco i suoi libri tu da le ha ritrovati li aveva prestati a un'amica per guardare le figure bene bene non parliamone più con tutto il capotto addosso e il cappello in testa lui si avventò sui libri ne prese uno l'aprì e poi diede un grido ma questi non sono i miei libri come sarebbe a dire erano libri di archeologia continuò lui sfogliando febbrimente gli altri volumi e questi invece sono cinque volumi per giunta scompagnati di diritto dissi a tuda ma si può sapere che hai fatto questa volta lei protestò con forza cinque libri avevo preso e cinque ne ho riportati che volete da me li ho pagati cari più di quanto mi avessero dato quando li ho venduti il professore era così stupefatto che guardò me e tu da bocca aperta senza dir parola lei continuò guarda sono le stesse rilegature anche più belle guarda e anche il peso è lo stesso me li hanno pesati sono quattro chili e seicento come quelli tuoi questa volta il professore si mise a ridere seppure di un riso amaro ma i libri non vanno appeso come la vitella ogni libro è diverso dall'altro che me ne faccio di questi libri non capisci ogni libro contiene cose diverse di autore diverso vagliela a far capire ripete ostinata cinque erano e cinque sono rilegati erano e rilegati sono io non so nulla insomma il professore le rimandò in cucina dicendole va a cucinare basta non voglio farmi cattivo sangue poi quando se ne fu andata disse mi dispiace è una cara figliola ma troppo rustica l'ha voluta lei professore me ha colpa disse lui tuda restò col professore ancora il tempo per cercarsi un altro posto lo trovò come sguattere in una latteria del quartiere qualche volta viene a trovarci in portineria del fatto dei libri non parliamo ma mi dice che sta imparando a leggere scritte a massimo ma 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 Grazie a tutti.